Bene lo scudo penale per i vaccinatori, ma va esteso anche a tutto il personale che lavora nei reparti Covid. A dirlo, è il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa, durante la visita in Asle 4. Il provvedimento fa parte del decreto legge del 31 marzo e passerà nei prossimi giorni in Parlamento per la conversione in legge. Al momento prevede che non ci sia responsabilità penale per il personale medico e sanitario che somminista il vaccino anti-Covid per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi durante il periodo emergenziale, a condizione che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni del Ministero della Salute. Il sottosegretario auspica che possa essere esteso a tutto il personale ospedaliero che curi i pazienti affetti da Covid-19. Perché credo che dobbiamo essere consapevoli che stiamo affrontando un momento straordinario e per affrontare situazioni straordinarie ci vogliono provvedimenti straordinari e nel momento in cui chiediamo una grande disponibilità ai tanti vaccinatori che stanno rispondendo sul territorio e anche qui nella AS4, medici di famiglia, tutte le categorie coinvolte, dobbiamo assolutamente creare le condizioni per farli lavorare in tranquillità e in serenità. È inaccettabile che un vaccinatore venga iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo solo perché ha iniettato un vaccino. L'altra novità che riguarda il personale sanitario contenuta nel decreto legge è quella dell'obbligo vaccinale per il personale impiegato nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, sia pubbliche che private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. Quelli che non hanno ancora fatto l'iniezione saranno contattati direttamente dalla ASL e nel caso scelgano nuovamente di non farlo saranno spostati ad altre mansioni e nel caso non fosse possibile sospesi dal lavoro senza ricevere quindi lo stipendio. D'altronde io credo che sia diritto di ogni cittadino nel momento in cui entra in una struttura sanitaria che sia essa pubblica o privata per essere curato e per essere assistito e non deve correre il rischio di essere contagiato proprio da chi lo dovrebbe assistere e curare. Questo è un provvedimento importante, è uno di quei casi in cui la politica si è assunta la responsabilità di fare una scelta e di farla anche in tempi brevi.